Don Vasile, è arrivato in Ucraina il mezzo che è partito da Crotone, c'era tantissima roba? Sì, è riempito con varie cose, con materassi, con altre robe che servono proprio per il popolo lì nella zona colpita, proprio è arrivato nella regione dell'Odessa, a città di Kropovnitsky, vorrei anche in questa intervista ringraziare anzitutto Prociv, Arci, Crotone, Calabria, Isola, Rosi e la città di tutta la Calabria per il suo intervento e aiuto che hanno dato. Questo è un territorio solidale, una Calabria solidale, ma soprattutto siamo tutti preoccupati per le condizioni della guerra che crescono sempre di più. Purtroppo la guerra non è finita, il governo della Mosca non è ancora pronto per finire questa guerra, invece sta sempre aumentando le forze, e vogliono di nuovo andare avanti, attaccare il territorio ucraino, perciò purtroppo abbiamo visto che ancora con i missili, con i droni, con altri mezzi, sta distruggendo di nuovo città, popolo ucraino e questo purtroppo richiede di nuovo richieste dei nuovi bisogni che ha il popolo colpito. Ed era quello che volevo sapere, avviate un'altra nuova raccolta? Sì, noi continuiamo con la raccolta perché non possiamo fermarci, c'è sempre nuovi bisogni, nuove richieste delle varie città e tramite anche l'esercato apostolico, tramite la Chiesa Cattolica cerchiamo sempre di aiutare le persone bisognose. Quindi si può sempre venire lì da Arcuri Auto per portare quello che può servire, dagli alimenti all'abbigliamento, a tutto ciò che è rivolto a questo popolo in grande difficoltà e sofferenza? Sì, di nuovo abbiamo bisogno anzitutto degli alimenti, delle cose che servono per i bambini, i neonati, anzitutto anche sanitari, da noi anche hanno chiesto, perché abbiamo visto che stanno distruggendo anche ospedali, hanno chiesto anche attrezzatura che serve per ospedali, letti, tutto questo, perché per curare le persone ferite dobbiamo avere anche i mezzi per fare questo. Grazie a tutti.